Mi sentiamo spesso, quindi all'unisono decidiamo anche la tattica della partita. Spesse volte gli dico, così non devi giocare, devi giocare in questo modo. E lui mi dice, comportati meglio nella vita. Lui mi indica come io devo comportarmi invece con la gente. Ma quante volte al giorno vi sentite? Almeno una volta al giorno. Ah beh, allora pensavo peggio io. Ma lui stacca il telefono ogni tanto, Mark? No, non lo stacca mai. Mai? Giorni e note non stacca il telefono. Non stacca mai il telefono. A te risulta il contrario? No. Io mi chiedevo, magari in certi momenti uno trova anche un'oretta per star libero e stacca il telefono, perché papà magari può chiamare proprio in quel momento. Lì penso io, eh. Avrai il silenziatore. Ma dico, noi vivendo all'unisono, so anche quanto le sue abitudini privatistiche abbiano un senso in cui il papà possa rompere le scatole. Ho capito, per cui non chiama in determinati giorni. Anche perché io e lui abbiamo le stesse abitudini erotiche. Erotiche. Ah, ecco. Con i stessi orari. Con i stessi orari. Jamie? Un commento. Eh? Hanno le stesse abitudini erotiche. Ci sono molte email per il papà di... Credo bene. Perché? E lo credo bene. Ha chiamato il direttore di Rai 1 del Noce e vorrebbe proporre un presserale a suo figlio Mark in coppia con i centravanti del Bologna. Quindi farebbero Mark e Cruz. Lo avrete sicuramente riconosciuto sugli schermi di Mamma Rai, un grandissimo conoscitore di calcio per cinque anni. Caro Cristian, osservatore della Juventus, grande amico di Luciano Moggi che ha saputo stimarlo anche perché gli ha suggerito un grande acquisto. Uno dei giocatori suggeriti infatti dal nostro protagonista di oggi è titolare in un'importante squadra di serie A, della quale il tifoso è il nostro primo ospite della puntata. Un bel po' di suggerimenti. Diamo il benvenuto ad un collega. Diamo il benvenuto ad Alfredo Iuliano. Benvenuto Alfredo. Grazie Elvite, grazie per questa ospitata inaspettata. Alfredo, ma quale inaspettata? Sveliamo anche il nome di che cosa? Del calciatore che tu hai suggerito a Luciano Moggi. Ovvero, dillo tu. Mirante. Esatto. Classe 1983, portiere di Castellammare di Stabbia. Tra l'altro un bel posto per fare portiere. Mi viene in mente Donna Rumma, il fratello che è stato anche a Bari. Qua Iarelle è un attaccante. Io l'ho visto per caso perché giocava nel Sorrento, aveva appena 16 anni compiuti e giocava in serie D in interregionale contro l'Ebolitana. Mi colpì e quindi chiamai prima Ceravolo perché era Ceravolo a capo degli osservatori. Poi fu seguito anche da altri osservatori e nel giro di tre mesi fu praticamente preso, insomma, per 270 milioni di lire. E questo ti fa capire che la Juve non paga mai i giovani, però il valore di Mirante era un valore su cui la Juve immediatamente, dopo averlo fatto anche osservare a persone più competenti di me, lo hanno acquistato subito. C'è stata una bella città perché al limite la Juve o sei un talento trattorpedico oppure paga sia noi il premio di preparazione. Alfredo, noi abbiamo visto nel video introduttivo una delle tue tante partecipazioni televisive su Mamma Rai. Sei stato anche uno dei protagonisti con Luisa Corna a Notti Mondiali, dello storico programma che seguiva le vicende azzurre ai mondiali. Sei stato anche spesso e volentieri ospite a quelli che è il calcio. A quelli che è il calcio, sì. La realtà? Ho fatto molte trasmissioni a quelli che è il calcio. A dire la verità a lanciarmi fu Luisa Corna, ma fu la Juve a scegliermi, quindi a selezionarmi tra i genitori spendibili che potevano far bella figura a Notti Mondiali. Ero andato per una sola puntata, invece poi da mattina si accorse che ero vaccinato alla televisione e gli disse che facevo televisione dal 1976, praticamente avevo 25 anni. E quindi disse, facemmo poi degli sketch con Luisa Corna in apertura. Io sfoggiavo un neoclassicismo tutto portato a far sì che Luisa ne uscisse fuori come una donna di altri tempi, insomma. Era un gioco carino. Non a caso, io ti domando, il giornalismo che tu hai interpretato è un giornalismo anche molto vicino al nostro. Tu sei partito dalle televisioni regionali e dai giornali regionali e locali. Sì, ho iniziato con il giornale di Calabria, avevo accompagnato un giornalista, a dirti la verità, Cesarano. Guarda, Rino Cesarano nel Corriere dello Sport perché lavorava per il giornale di Calabria. Mi chiese dove si trovasse il giornale di Calabria. Quindi io sono entrato insieme a lui e un redattore mi fa scrivere. Ho detto, guardi, ho preso la licenza liceale da un anno. Dice, quindi mi fece scrivere dei pezzi, trascriverli addirittura. Poi ho cominciato con le radio libere del 1976 e subito dopo fui anche selezionato da Tele1, che era una televisione regionale. Ho fatto parte anche della RAI, quando la RAI regionale era aperta da poco, superai la selezione, ma non avevo poi successivamente i requisiti partitici che venivano chiesti. Io ero fuori da quel giro e lo manifestai subito. Meglio fuori che dentro da certi giri, ma tornando alle cose di casa nostra, tu hai scoperto Mirante. E a Bari, Cristian mi insegna, c'è il nodo portiere. Perché Battistini, ex grande portiere del Bari, ha la procura di Micai, che questo giovane portiere che l'anno scorso, dopo il clamoroso errore contro il crotone di Juric, Donnarumma, no scusatemi, Guarna, venne accantonato e iniziò a giocare Micai. Quest'anno pare che per beghe contrattuali ci sia un po' di ritrosia nello schierarlo con continuità. Alfredo, tu che sei un uomo navigato, e forse anche Cristian converrà, anche se è un po' più giovane, Cristian, di te, e lo dico nel rispetto della tua esperienza sul campo e anche come osservatore, ma il turnover tra portieri non è una fesseria? Il turnover tra portieri è assolutamente una fesseria perché è uno dei pochi ruoli dove il portiere deve esercitarlo costantemente, perché deve avere quella presenza, anche se vogliamo come il cacciatore, deve avere l'occhio allenato sulla traiettoria. Ed è purtroppo, infatti vediamo, quando i portieri che solitamente ristagnano in panchina trovano grosse difficoltà ad entrare in forma e ad approcciare la partita con una certa disinvoltura. È purtroppo un ruolo dove il portiere, innanzitutto, poi, se è un portiere che parla, se è un portiere che capisce lo schema difensivo, è quello che deve suggerire, deve creare l'attenzione, soprattutto sui centrali che spesso si addormentano. Purtroppo Ranocchia, che ha giocato con voi, è uno dei calciatori che trova difficoltà, non perché non sia bravo, ma perché si addormenta. Sopronomiato Morfeo dagli amici. Quindi diceva Ferrara e a Montero, quando giocavano in tre, se mi addormento prendetemi a calci, perché è l'unico ruolo dove l'attenzione è costante, perché se ti addormenti ti fanno fuori subito, perché non si gioca a uomo, si gioca a zona, quindi queste volte c'è uno scambio di uomini, insomma, di traiettori, o si fa una diagonale e ti trovi impreparato, insomma. Alcredito, in sostanza, stai bocciando la scelta di Roberto Stellone, che continuerà comunque con questo turno versi. Se è un portiere bravo, se è un portiere che capisce come debbano giocare i suoi difensori, se capisce che qualche difensore latita su alcuni aspetti della concentrazione, lì la forza del portiere, è un allenatore della difesa. Poi tra l'altro, io mi ricordo un noto telecoronista preso in giro dagli amici della Gialappa, che commentava le partite del Frosinone di tanti e tanti anni fa, e diceva Frosinone culone, si può dire, cioè molto fortunato. Io ho l'impressione, ho l'impressione, che si inizia a portare in auge quella teoria secondo la quale chi viene da Frosinone, in questo caso Stellone, abbia ottenuto sì dei grandi risultati, tre promozioni consecutive per carità, ma abbia anche avuto fortuna nel gestire determinati casi. E forse questa fortuna fuori da Frosinone finisce, anche perché a Bari, anche alcune dichiarazioni, caro Alfredo e caro Cristian, le ha fatte strane Stellone. Ad esempio, una frase inconcepibile è la tabella punti del Bari. La tabella punti del Bari di Stellone è quella di Nicola, peccato che Nicola con un punto in più è stato esonerato. Non a caso nei giorni scorsi il direttore sportivo Sean Sogliano ha pizzicato lo stesso Stellone, praticamente dicendo... Che andava male in matematica. Che si vive di risultati che Frosinone non è certo Bari come piazza e dunque deve fare in fretta. Che pensi tu Alfredo di questo? Allora io conosco Stellone ed è un allenatore molto bravo. È certamente il migliore di cavallo, che conosco bene perché ha giocato con mio figlio anche nell'Anter 21, si conoscono bene da molti anni, è un bravissimo ragazzo, anche se non lo ritenevo adeguato per una piazza come Crotone. Ma evidentemente a Crotone al di là di tutto hanno deciso di retrocedere, un po' perché hanno allestito un organico insomma patetico per una serie A e quindi hanno già deciso di ritornare in B forse per i posti di gestione, un po' perché hanno la questione del terreno di gioco. Ma Stellone è veramente un allenatore all'avanguardia. Il problema è che a Frosinone è diventato un ambiente calcistico a tutti gli effetti. Ha trovato la quadratura, una dirigenza che ha saputo nello stesso tempo proiettare da una provincia delle province una squadra addirittura in serie A. Anche un bel po' di bei giocatori, poco reclamizzati, Ciofani ad esempio, a me piace, per la B è forte Ciofani. No, ripeto, ha un presidente serio che non è quello del Latina, perché a Latina ci parla sempre male il Frosinone, ci parlano dei pecorai, non è vero. I pecorai sono a Latina, con tutti i rispetto per gli amici di Latina, ma hanno un presidente inaccettabile. Poi c'è stato Leonardo che era ancora… non ne parliamo perché mio figlio dopo averli salvati hanno rifiutato il preparatore atletico, gli hanno esonerato l'allenatore in seconda e praticamente l'hanno messo in condizione di andare via subito. Non potevano licenziarlo per via della salvezza, ma hanno fatto di tutto in modo veramente vergognoso. Io, non perché sono amico di Mark e non perché Alfredo è il papà di Mark Giuliano, storica bandiera della Juve, penso che quello che ha fatto… No, penso che quello che ha fatto Mark a Latina non lo farà più nessun altro. Questa è una mia idea. Per usare processi, a 20 punti all'inizio del giorno andato, usare processi. Ne ha fatti 30 e quindi li ha salvati, li ha portati anticipatamente, con una giornata proprio abbattendo il bari, tra le altre cose. Tra le altre cose. Alfredo, è stato un piacere ascoltarti. Io spero di risentirti per cercare, insieme a Cristian, che ci arriverà di nuovo a trovare, perché parleremo anche un po' più di Serie B quest'anno, in una parte di puntata. Ed è sempre bello avere un interlocutore come te, che oltre ad essere un ex collega, è stato osservatore della Juventus. Ti dirò, grazie a te, ti dirò che è molto più bello e interessante parlare di un campionato imprevedibile che sciocca gli scommettitori perché quasi mai si riescono a prendere il risultato. Quindi è più analitico. Noi siamo ancora più scioccati dai quattro gol del Benevento, però per il resto ti posso garantire che abbiamo visto le streghe quella sera. Comunque, vabbè, Alfredo, grazie. Il Benevento viene sottovalutato. Invece è una squadra che magari non vincerà il campionato, però è una squadra ben fatta, quadrata. Da play-off. Soprita di giro di tre anni, i pezzi, diciamo, i calciatori sono stati integrati volta per volta alla bisogna su ciò che necessitava il terraio richiesto dall'allenatore. Quindi è una squadra da non sottovalutare. Gli manca l'esperienza della bici. Questo potrebbe essere determinante, però è una squadra che potrà dare fastidio a tutti. A lunga non so come si comporta. Speriamo non più al Bari, perché noi ci siamo tolti questo macino. Grazie Alfredo, ci sentiamo. Lì l'ha presa, grazie, il Bari l'ha presa sotto gamba la partita, ci è svegliato quanto ormai era troppo tardi. Anche qualche torto arbitrare, ma non è bello parlarne. Grazie Alfredo. Sì, non lo parliamo. Grazie Alfredo. Alla prossima pubblicità.